Più programmi televisivi che raccontino un po' la nostra destra, eccetera, ce ne sono abbastanza, qualcuno di più andrebbe fatto un po' di revisionismo storico, c'è già un po' Paolo Mieli ne ha fatto, insomma cosa ne pensa? Che c'è una carenza ancora per quanto riguarda la destra, come viene rappresentata, quanta destra c'è nella cultura, nel cinema, nel teatro, in televisione, ce n'è veramente poca, destra istituzionale e destra radicale. Ma perché vengono finanziati solo i film dei registi di sinistra, prevalentemente? Perché la sorella di Carla Bruni? Perché così? Perché vada a trovare i terroristi? Perché? Perché se invece ti sposti sulla destra sembra che sia una cosa che diventa impossibile, ti ghettizzano, ti discriminano immediatamente. Ma la RAI potrebbe fare qualcosa, adesso ci state voi. Ma la RAI quando ha fatto per esempio, ci stanno loro, ma quando la RAI ha fatto un filmato su per esempio mio nonno, ha fatto una rappresentazione di mia nonna Rachele, allucinante, mia nonna Rachele è una donna rigida, acuta, penetrante, invece l'hanno fatta diventare una donnetta che sta in cucina. Grazie.